Continua l'attività di identificazione da parte degli agenti della Polizia della Divisione Anticrimine Ufficio Minori della Questura nei confronti di minori resisi responsabili di comportamenti violenti in città, anche se non riconducibili ad atti commessi da baby gang. Si tratta di un ragazzo di 15 anni che ad ottobre è stato segnalato in quanto si è reso responsabile di ingiurie e percosse nei confronti di un sessantennio operatore volontario di un oratorio in città. In particolare il ragazzo era stato diffidato dal frequentare l'oratorio a causa di sue precedenti condotte. Più volte aveva assunto comportamenti aggressivi, infatti nei confronti di coetanei e ragazzini più piccoli aveva ingiuriato gli ospiti di colore dell'oratorio e in un'occasione aveva colpito con calcio e pugni il responsabile. In seguito a tal evento era stato diffidato da far rientro nell'oratorio per un periodo di sei mesi, ma grado ciò incurante del divieto si è ripresentato in oratorio e quando un operatore volontario della struttura lo è invitato ad allontanarsi ha reagito con violenza, scagliandosi contro l'uomo, facendogli un occhio nero e provocandogli lesioni al viso. Il gesso è da inquadrare in un contesto socio-familiale difficile dopo la convocazione dei genitori presso l'ufficio minori della questura di Foggia e seguita la segnalazione all'autorità giudiziaria minorile. Grazie. Grazie. Grazie.